Musica Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi oggi parliamo delle sfide marshmallow Quelle uscite con la settimana numero 9 La prima sfida ci chiede di trovare un poster di marshmallow Per poter sbloccare il suo spray Per trovarlo ragazzi dobbiamo andare al benzinaio di parco pacifico Ovviamente dove è allestito il suo stage, il palco per l'evento del 2 febbraio E come vedete ragazzi davanti a noi ce n'è proprio uno Adesso non ricordo se ci devo ballare davanti Ci provo perché non me lo ricordo Eccolo qua No, dobbiamo solo prenderlo Facendo così ragazzi la sfida è completata Mi raccomando di iscrivervi al canale Lasciate un bel like Noi ci vediamo in live Ciao Ciao Ciao